Convocare a pezzi Io confongo nuovi spazi e desideri che Simone nelle blind mi è entrato dritto nel cuore come una spada Essenziale Wow! Grazie Allora, tesoro, io... Mi è scappato Come primo palco è andato abbastanza bene Tu, oltre ad avere una bella interpretazione, hai anche una bellissima estensione vocale Per questo io ho pensato una bellissima canzone per te per affrontare le semifinali Sì Parliamo di Lara Fabian Adagio Ti piace? Sì, sì Cantare questa canzone le difficoltà sono che deve avere la voce molto alta È una canzone molto difficile Quindi o la fai benissimo o la fai male Una via di mezzo non c'è Mi è arrivato a una ventata di musica con delle tonalità pazzesche Come fai ad arrivare all'ottavo piano? Sei così? Clementino lo voglio far piangere di felicità Bravo, bravo Un'altra volta Non so dove trovarti Non so come cercarti Ma sento una voce che Nel vento parla di te Accendi il tuo nome in cielo Dimmi che ci sei Quello che vorrei Quello che vorrei Vivere in te No, 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 no… E il sole mi sembra aspetto… No, no , no, no, no… No, 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 no no… No, 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 no… Abbraccio miglior la mente Smarrito senza di te Dimmi chi sei E ci crederò Musica sei Ed è giù Grazie Mamma mia Simone Mamma mia, hai rotto tutti i bicchiere di cristallo del servizio buono a casa Ti è piaciuta questa esibizione? Bene, perché potrai vederle tutte e potrai vederle tante altre iscrivendoti al canale di The Voice